Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video tuttora su After Effects Mi sto mangiando già le parole quindi abbiamo capito che devo fare una traduzione molto svelta Oggi vi mostrerò l'effetto dell'invisibilità Me l'ho già segnato nella lista da un pezzo quindi ho detto è ora di farlo E quindi oggi è il giorno preciso Da notare è che non userò particolari tool esterni quindi tutto dentro After Effects Nel mio caso è la versione CC Detto questo apriamo After Effects Bene, iniziamo il nostro tutorial sull'effetto dell'invisibilità Dunque analizziamo il nostro video e vediamo che una parte fondamentale che ci serve è il Clean Plate Ovvero un video in cui non è presente il soggetto Da notare è che io in questo video utilizzerò un video preso da un cavalletto quindi stabile Se invece fate tutto in movimento il principio è praticamente lo stesso Tranne per il fatto che dovrete fare tutte queste cose in movimento Ciò non significa che voi vi dovete agitare davanti al computer Significa semplicemente che dovete fare una piccola integrazione con il camera tracking Ma io mi voglio rendere le cose semplici e quindi uso un cavalletto Dopo il Clean Plate c'è il nostro soggetto ovvero me medesimo che arriva Schiocca le dita e poi se ne va Da notare è che se noi vogliamo fare sparire il soggetto non possiamo semplicemente tagliarlo via dalla scena Perché ci sono sempre queste ombre qua dietro che non possono scomparire all'improvviso O addirittura restare lì e quindi qua dobbiamo prestare una certa attenzione a questo piccolo dettaglio Quindi procediamo con la divisione della clip e vediamo un po' come procedere per rendere tutto questo un bel effetto Quindi la prima parte è questa qua del Clean Plate Quindi andiamo nel punto dove inizia ad apparire il soggetto quindi qua E per dividere il livello facciamo Edit Split Layer o alternativamente Command Shift Edit Questo che sarà il nostro Clean Plate facciamo invio e lo rendiamo in Clean Plate Per il momento non ci serve quindi lo disattiviamo Premiamo B qua per far iniziare l'area di lavoro da qui Vediamo il nostro soggetto che arriva Se noi vogliamo eseguire l'effetto invisibilità sul nostro soggetto Ci serve in qualche modo sapere qual è il suo canale alfa Per estapolarlo ci sono diversi modi Ad esempio potete filmare il soggetto in green screen e poi fare il chroma key In questo caso però non avevo voglia di mettere su green screen e robe varie E voglio anche farvi vedere come risolvere questo errore dell'ombra Quindi quello che userò io per trovare il suo canale alfa è uno strumento che si chiama Roto Brush Ovvero questo piccolo strumento che però non può essere usato nella composizione Va usato nel pannello del livello Quindi è inutile conoscere il suo canale alfa in questo punto qua perché sarebbe controproduttivo Dobbiamo andare nel punto in cui più o meno l'invisibilità dovrebbe apparire Circa qua E da qua fino più o meno alla fine del video dobbiamo sapere il suo canale alfa Quindi selezioniamo il nostro livello Facciamo doppio clic e noterete che qua si apre un nuovo pannello Che non è Composition ma è Layer E quindi ci mostra solo il nostro livello Ora possiamo prendere lo strumento Roto Brush che è questo qua Possiamo semplicemente andare a dipingere lungo il nostro soggetto Se tenete premuto il tasto Command e cliccate potete ingrandire o diminuire la sua dimensione Diamo una dimensione circa di questa Andiamo a fare una linea sul nostro soggetto E vediamo che intanto è stato applicato un effetto Quindi noi col pennello verde aggiungiamo aree che vogliamo includere nel canale alfa E se premiamo Alt possiamo togliere aree che non ci interessano come quella lì Ora io lo faccio più piccolo Prendo anche le orecchie Ok una volta che abbiamo la nostra selezione Che ovviamente non deve essere dell'ombra Ci basta del nostro soggetto Vi faccio notare che ci sono diverse modalità di visualizzazione Ad esempio il canale alfa così nudo e crudo Oppure c'è questa qua con il rosso Però a noi basta questa qua con il contorno rosa Per andare avanti potete usare il tasto qua per andare al fotogramma successivo Oppure usate i tasti Page Up o Page Down Praticamente noi dobbiamo andare avanti fino alla fine del video E controllare soprattutto che non vengano perse delle aree Perché a volendo noi potremo direttamente fare play e lasciare che il programma elabori tutti i pixel Ecco Però io preferisco farlo manualmente frame by frame Così sono sicuro che non perdo dettagli essenzialmente Quindi procedete così frame by frame fino a che non avete terminato il video Benissimo una volta che avete finito di fare questa cosa che si chiama rotoscoping Vi dico una cosa che non vi ho detto prima Ma comunque più dettagli avete nella vostra immagine meglio verrà l'effetto Infatti vedete che qua che c'è un po' di sfocatura Di effetto movimento È molto più difficile per il programma trovare le giuste aree Quindi intanto dovete andare su View Resolution e mettere Full Anche se il programma ve lo dovrebbe dire in automatico E secondo usate la massima risoluzione possibile quando filmate E ovviamente cercate di tenere la shutter speed bassa così da non avere questo effetto movimento Comunque una volta che avete finito Intanto come avete visto io ho dovuto aggiustare più volte lungo il procedimento La selezione perché spesso c'erano degli errori Maggiormente perché il colore della pelle assomigliava molto a quello dell'armadio o della finestra Comunque una volta che abbiamo finito dobbiamo cliccare su questo pulsante Freeze Clicchiamo e il programma sostanzialmente farà una specie di piccolo rendering Così ogni volta che saremo nel pannello della composizione non ci saranno da aspettare 10.000 anni in sostanza Quindi aspettiamo che il programma finisca e poi procediamo Benissimo una volta che il Freeze è completato torniamo nella scheda composizione E possiamo vedere il nostro bel soggetto senza sfondo Qua possiamo regolare leggermente la sfumatura Quindi innanzitutto zoomiamo e diamo un 10 di sfumatura senza esagerare Altrimenti l'effetto che verrà dopo non sarà soddisfacente Quindi una volta fatto questo prendiamo il nostro livello Lo duplichiamo Nella copia duplicata togliamo Roto Brush e Refine Edge E in quello con l'effetto e quindi con il suo canale alfa Dobbiamo fare una precomposizione Quindi layer, precompose, move all attributes into the new composition E lo chiamiamo actor key Attiviamo anche questa piccola opzione che c'è da After Effects CC superiore Che praticamente facilita molto il lavoro Quindi qua la nostra precomposizione inizia direttamente da qui Benissimo, ora che abbiamo il nostro actor Questo ci servirà per farlo sparire Per il momento non ci serve quindi lo spegniamo Adesso facciamo una specie di livello per le ombre Ovvero prendiamo il video originale Che ricordo essere questo qui Lo duplichiamo Clicchiamo invio e lo rinominiamo Shadows Ovvero ombre Prendo lo strumento rettangolo Seleziono il livello E dal momento che le mie maschere sono tutte dalla parte sinistra Faccio una maschera in questo modo Che le racchiuda tutte Io voglio una maschera con solo le ombre Il problema è che qua c'è anche il soggetto E quindi per ovviare questa cosa Applico un effetto Che si chiama set matte Ovvero lo applichiamo E possiamo dirgli Prendi il canale alfa da Dal nostro effetto Dal nostro livello Da questo livello qua E però invertilo Se noi lo isoliamo Praticamente quello che fa è Normalmente Prende come suo canale alfa Il suo canale alfa Ovvero il canale della trasparenza Se noi lo invertiamo Otteniamo questa cosa qua Questo ci servirà per fare la transizione Da ombra a Non più ombra sostanzialmente Ora prendiamo il nostro cleanplate Lo posizioniamo sopra Actor key Prendiamo il nostro Livello originale E lo portiamo in fondo Per comodità Lo chiamiamo original Quindi il livello che abbiamo in fondo Non ha nessun effetto Ed è l'effetto originale Ed è il livello originale Poi abbiamo il nostro cleanplate E poi le ombre Il cleanplate lo prendiamo E lo dobbiamo spostare A un punto preciso Quindi se noi sappiamo che Inizia circa qua A sparire Lo prendiamo E lo spostiamo qui Il problema qua È che Una volta spostato qui Spegniamo le ombre E praticamente quello che ci ritroviamo È Una scomparsa Molto repentina Del nostro soggetto Per non averla così repentina Sfruttiamo Questo Questo livello Shadows Notiamo che se questo Noi lo Lo abilitiamo Possiamo fare Una specie di animazione Dell'opacità Che va Da 100 A 0 Per comodità Noi tagliamo il livello Lo facciamo iniziare qui Keyframe Dell'opacità A 100 E poi Non so Facciamo Qualche frame dopo Lo mettiamo A 0 In questo modo L'attore Schiocca E pian piano L'ombra Se ne va Ora occupiamoci Del Far sparire In un modo Un po' più carino Il soggetto Quindi prendiamo Actor key Lo mettiamo in cima E Quello che gli dobbiamo dare È un modo per sparire Quindi Command y Creiamo un nuovo solido Lo chiamiamo Matte Facciamolo bianco Invio E Applichiamo l'effetto Fractal noise Come tipo Dobbiamo mettere Dynamic Progressive Aumentiamo Il contrasto Ma Molto Circa 1500 E Facciamo Posizioniamoci nel punto In cui Inizia La trasformazione E gli diamo un keyframe Per la brightness Ovvero per la luminosità E rialziamo Finché Non è tutto bianco Andiamo dopo Nel punto in cui È finita E la portiamo In basso Finché Diventa Tutto nero Qua Possiamo anche Aumentare la complessità Diamogli pure Un 15 E Andiamo in Transform E aumentiamo La scala E gli diamo Un 110 Benissimo Assicuriamoci che il livello Met Sia sopra Actor key E in track Met Se non lo vedete Cliccate qui Impostiamo Luma Met Vediamo se viene bene E direi di sì Vedete appunto che Il soggetto Sparisce in questo modo Proprio Seguendo Il bianco e il nero Del livello Che Gli ha sopra E però adesso Dobbiamo occuparci Di come Fare Il soggetto Invisibile Perché Volendo Potremmo lasciarlo Così Il problema È che Non è più Realistico Riprendiamo Actor key Lo duplichiamo E Lo spostiamo Sotto Il suo Actor key A questo qua Gli togliamo Il track Met Praticamente Dobbiamo applicare Un effetto Che si chiama Find edges Per comodità Lo isoliamo E dobbiamo Invertire In questo modo Troverà tutti I bordi Presenti Nel Nel nostro Soggetto Il problema È che Ora Sono colorati Quindi Applichiamo L'effetto Tint E per fare In modo Che Non ci sia Il nero Impostiamo La sua modalità Di fusione Su Add A questo punto Se volete Potete anche Applicare L'effetto Sharpen Prima Prima di Find edges E se lo aumentate Potrete aumentare I dettagli Sostanzialmente Io preferisco Non aggiungerlo Perché mi basta Così Vedete che Questo effetto È già presente Perché Prende il canale Alpha Quindi Facciamolo Iniziare Da qua Questo lo chiamiamo Edges Lo tagliamo E lo facciamo Iniziare Da qui E applichiamo Il Simple Choker Impostiamo Un valore Di 1,4 1,5 E anche qua Animiamo L'opacità Quindi Promiamo T Keyframe Sull'opacità A 0 Andiamo avanti E In questo punto qua La riportiamo A 100 In questo modo Anche La transizione Di questi Vordi Sarà più controllata A questo punto Dobbiamo aggiungere La distorsione Nello sfondo Noi semplicemente L'aggiungiamo Nel cleanplate Quindi Applichiamo Un effetto L'effetto che fa Tutto il lavoro Che si chiama Displacement Map E l'applichiamo Sul nostro cleanplate Come displacement Map Player Dobbiamo scegliere Il nostro Actor Key Isoliamo il nostro livello Così vediamo cosa succede Come canale Scegliamo Luminance E se aumentiamo Questi valori Vedete che L'effetto È quello che interessa A noi Ovvero una distorsione Basata su come È fatto Il nostro attore Benissimo Anche qua Dobbiamo fare I keyframe Quindi ci spostiamo qua Diamo due keyframe A 0 E A 0 Andiamo avanti E qua Mettiamo Keyframe A Non so Facciamo 40 40 e 45 Per dare un po' Di varietà Quindi in sostanza Quello che succederà È questo Benissimo A questo punto però Vediamo subito un errore Molto brutto Che Qua Stacca tutto Questo perché Il cleanplate Non è abbastanza lungo Qua Possiamo O fare Un time stretch Oppure possiamo Fare Non so Allungare Duplicarlo Ecco Però per comodità Facciamo Tasto destro Time Enable time Remapping Nel punto in cui finisce Ovvero questo qua Aggiungiamo un fotogramma E questo Lo tiriamo Oltre la fine Estendiamo Il livello E voilà A questo punto Diamo un'occhiata Agli errori Che si possono Che si possono creare E al cosiddetto Timing Prima di tutto Per questioni Di come funziona L'effetto displacement map Quando il soggetto Si avvicina ai bordi Proprio questo Cleanplate Che perde Dei dettagli Perché qua sopra Non sa da dove Prenderli Quindi Per quanto riguarda Il sopra E il sotto Non mi preoccupo Perché tanto so Che ci dovrò mettere Delle letterbox Per quanto riguarda Invece i lati Perché qua Lui sfiora Il lato Si crea Questa brutta Trasparenza Ecco Quindi qua La soluzione È quella di Annullare l'effetto In sostanza Quindi premiamo Selezioniamo il livello E premiamo U Così vediamo i fotogrammi Poco prima che arrivi Questa Trasparenza laterale Quindi Circa Circa Qua Aggiungiamo Un fotogramma Per l'isplacement Orizzontale Ovvero di qua Quando siamo qui Lo riportiamo A zero In questo modo Vedete che L'isplacement Si annulla Gradualmente Ed è talmente Impercettibile Che Non ce ne accorgiamo Ecco Diamo un'occhiata Al timing Ora Vediamo un pochino Se Le ombre Combacciano La sparizione del corpo Perché Teniamo conto di Quanto corpo È scomparso E quante ombre Si vedono ancora Questo Va Va abbastanza bene Come Come tempo Poi siete liberi Di aggiustarlo Con i fotogrammi E ora diamo un pochino Più di dettaglio A Alla sparizione del corpo Quindi Selezioniamo il livello Matte E applichiamo Un pochino di effetti Un po' così Per divertirci Iniziamo con il Turbulent Displace Diamo una dimensione Molto piccola Tipo 10 Facciamo un amount Di 50 In sostanza C'è una piccola Distorsione Poi Applichiamo Una Radial Una CC Radial Fast Blur Il centro Lo mettiamo Al centro Del corpo E Il raggio Lo diminuiamo Non so Mettiamo 3 e mezzo Ed ecco qua Qua volendo potremmo dare Anche più dettagli Quindi possiamo Prendere il nostro Actor Key Lo duplichiamo Applichiamo Il CC Star Burst E qua Aggiustiamo un pochino I Settaggi Impostiamo Lo scatter A 0 La speed A 0 E la dimensione La diminuiamo Poi possiamo sempre Cambiarla Facciamo dei keyframe Su scatter Speed Andiamo alla fine Della trasformazione E aumentiamo Scatter A 2 E speed A 1 In sostanza Questo è quello Che vediamo Di particelle Ecco Quindi Size Io direi di mettere 40 E facciamo anche Un'animazione Dell'opacità Quindi premiamo T Qua Keyframe A 0 2 fotogrammi Dopo A 100 E quando la trasformazione È finita Di nuovo A 0 Quindi sarà tipo Un E per rendere tutto Più realistico Applichiamo anche Una fast blur Perché A parere mio Queste particelle Sono troppo Nitide Quindi mettiamo 1 Anche 2 Ecco Ecco In questo modo Quando C'è la sparizione Vedete che Sembra che parte Del corpo Diventi queste particelle In sostanza L'effetto È finito qui Vi do un paio Di consigli Per Per Sbizzarrirvi Ad esempio Quello che potete fare È Prendere Il livello Del matte Con questi due Fotogrammi Non so Potete Copiare questo Lo rincollate qui Copiate questo Lo rincollate di qua In modo tale Che ci sia anche La trasformazione inversa Ecco Vedete che qua Potete fare La trasformazione inversa Potete farle Quante volete Comunque Questo era il principio Base Dell'animazione Visto che Vogliamo Possiamo Prendere questa composizione Che si chiama Invisibility tutorial La trasciniamo In una nuova E notiamo che C'è una parte vuota Comunque non ci preoccupiamo Diamo gli L'inpoint E l'outpoint Lo mettiamo Lo mettiamo qua Con il tasto N E premiamo Nella K O command K O control K Per avere le impostazioni Della comp Gli diamo 1920x800 E così È come se Avesse Già Le letterbox Aggiustiamo Un pochino L'altezza In sostanza Questo è l'effetto Possiamo anche fare Una veloce Color correction Bene Ora facciamo Un'anteprima RAM Molto bene Quindi il tutorial È finito E se avete anche voi Suggerimenti per migliorare Questo effetto Scriveteli pure Tranquillamente Nei commenti Fantastico ragazzi Ora che avete visto Come si esegue il tutorial L'effetto sull'invisibilità Potete tranquillamente Rieseguirlo Rifarlo Come vi pare E condividerlo Sulla pagina facebook Così tutti quanti Ci aiutiamo O diamo consigli Diamo Suggerimenti E questa diventa Una gran bella cosa Inoltre vi consiglio Di isolare Guardare singolarmente Ogni livello Che cosa fa Così capite Le meccaniche Del progetto Perché in fondo È questo lo scopo Di ogni tutorial Far capire nuove cose Non solo l'effetto Infatti ho notato Che in molti altri video C'è gente che non capisce Quello che fa Guarda solo Coppia Coppia rifa Ragazzi dovete capire Quello che state facendo In questo programma Quindi detto questo Fate le solite cose Scriveteli Mettete mi piace Se avete dei dubbi Commentate E se avete dei tutorial Nuovi da suggerire Perché mi fa sempre piacere Aiutarvi Usate il forum di contatto Che trovate nelle info Qua sotto Nell'info box E detto questo Noi ci vediamo In un prossimo video Alla prossima ragazzi Come tipo Dobbiamo mettere Dynamic Twist Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi Grazie a tutti